Elisabetta Gregoracci a Parigi con Fratini, l'abito è il look di San Valentino. Sembra davvero procedere a gonfie vele la luvastori tra Elisabetta Gregoracci e l'imprenditore Giulio Fratini. I due, infatti, si sono concessi un romantico weekend pre San Valentino nella città dell'amore, Parigi. Tra una capatina alla meravigliosa reggia di Versailles e cene a lume di candela sulla torre Eiffel. La Gregoracci è apparsa più innamorata e luminosa che mai, complice anche il mini dress Sparkle che ha sfoggiato proprio in una delle uscite serali con il compagno e che senza dubbio è il look vincente per una romantica serata 2 di San Valentino. Elisabetta Gregoracci, l'abito Sparkle e il look di San Valentino tutto da copiare chissà se è il romantico weekend parigino che Elisabetta Gregoracci e Giulio Fratini hanno trascorso insieme è stato il regalo di compleanno che l'imprenditore ha fatto alla compagna per i suoi 43 anni. Festeggiati l'8 febbraio scorso con un party super glam a Monte Carlo, dove Flavio Briatore era tra gli invitati. Che sia stato un romantico regalo di compleanno o meno, resta il fatto che sui social la coppia è apparsa più affiatata che mai, tra passeggiate per la città dell'amore e cene a lume di candela sulla torre Eiffel. Oltre agli occhi brillanti d'emozione della Gregoracci, a colpire le fashioniste più attente è stato il look da sera sfoggiato dalla showgirl proprio per uno dei romantici tete a tete parigini con il compagno, un vestitino sparkle e argentato dalla scollatura vertiginosa. Il mini dress, arricciato su un fianco e dalle spalline prominenti e imbottite. Richiama con forza la moda anni 80 anche nello scintillante colore. D'altronde spalline vertiginose scollatore a vu sembrano essere tornate di gran moda. Come ha dimostrato anche Chiara Ferragni nell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023 dove indossato. Tra gli altri, un fasciante abito nero schiaparelli con queste caratteristiche. Il luminosissimo vestitino anni 80, la Gregoracci lo ha abbinato a stivali al ginocchio modello camperosa un beauty look caratterizzato da capelli lisci e rigorosamente sciolti e trucco marrone scuro bello carico con labbra nude. Il tout-el look, in tutta la sua brillantezza, è un perfetto spunto da copiare per una serata speciale a due. Come ad esempio quella di San Valentino. Elisabetta Gregoracci e Giulio Fratini innamorati a Parigi sono ormai diversi mesi che Elisabetta Gregoracci e Giulio Fratini si frequentano e se all'inizio la coppia ha cercato di svelare il meno possibile, a oggi il loro amore è palese a tutti soprattutto dagli occhi di Elisabetta e dal suo sorriso che sembra aver ritrovato spensieratezza. Il weekend d'amore francese è stata una piccola luna di miele per i due che avevano anche passato il capodanno insieme a Dubai. Dal profilo social della showgirl sembra davvero che, tra arte e romanticismo, la coppia si sia goduti alla grande le giornate sotto il cielo di Parigi, benché sotto i riflettori del gossip da tempo. Elisabetta e Giulio sembrano comunque voler mantenere il giusto riservo e hanno deciso di mostrarsi il meno possibile sui social fianco a fianco. D'altronde, come la stessa Elisabetta ha detto verissimo, quando vivo le cose sono un po' scaramantica. Ho sempre l'ansia che poi succeda qualcosa. Per iloisatore comunque pare Prendendo, come la stessa Prendendo, come la stessa Prendendo, come le fanno operazione tutto per la stessa pur che vista Grazie a tutti